Nicola Vivarelli non riesce più a stare lontano dalle altre donne e decide di mettere da parte la sua conoscenza con Gemma Galgani, approfittando della distanza. Nelle ultime ore è arrivata una segnalazione che lo vedrebbe protagonista di un flirt insieme a un'altra donna, che non è affatto Gemma, ma sarebbe anche lei famosa all'interno dei programmi di Maria De Filippi. Nicola accede così alle tentazioni e decide di mettere da parte Gemma per dedicarsi completamente a un'altra ragazza. Visto che Gemma non si fa neanche più sentire per telefono e sta scomparendo addirittura dai social, Nicola ha così deciso di puntare su una nuova conoscenza. Amedeo Venza ha così affermato che Sirius, alias Nicola, alias nipotino di Gemma, ha dimenticato. È spesso in giro con una nuova donna accanto, più convincente e più vicina per i suoi canoni sia estetici che anagrafici. La mora in questione avrebbe meno di 30 anni e l'altro giorno erano insieme in un bar all'aperto. Attendiamo la paparazzata da un eccesso all'altro. Stando agli ultimissimi news, la ragazza sarebbe anche lei una ex di uomini e donne. Staremo a vedere. Cosa ne pensate al riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto. Ciao! Scrivetevi al canale.